Prima parlava del suo centrocampo, in Casalazzo si parla molto del futuro di Biglia. Quanto è vincolante per l'ambizione di Casalazzo di giocare come Biglia? È un giocatore importante, un giocatore più importante, un giocatore più grande, un giocatore più grande, sicuramente ha la qualità di organizzatore di gioco e è troppo importante per l'ambizione di Casalazzo. Casalazzo ha dimostrato per i miei anni che se avrà via qualcuno riesce sempre a sostituirlo bene, però io penso che chi arriva in Casalazzo, secondo me. Giocare solamente 20 minuti si è fatta un'idea di morri, insomma. Ma io ero attento a guardare la mia squadra che non dedicarmi ai singoli degli avversari. In bocca al lupo. Grazie, grazie.